Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interpellanti per aver sollevato una tematica di grande rilevanza e di impatto che mi consente oggi di fornire tutti gli elementi utili a dipanare eventuali equivoci che si sono generati. Intanto, prima di leggere il mio testo, vorrei ribadire chiaramente che mai questo Governo, come mai io ho pensato di abbandonare l'uso delle mascherine negli ospedali e nell'RSA. Anzi, nella circolare che ho firmato il 31 ottobre scorso, ho parlato non solo della endemia oggi da Covid-19, ma anche dell'avvicinarsi della stagione influenzare. D'altronde, le mascherine sono sempre state un presidio molto utile negli ospedali, anche prima della pandemia da Covid-19. Inizio ricordando che a seguito dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 640 del 27 febbraio 2020, l'Istituto Superiore di Sanità dal 28 febbraio 2020 coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle regioni e province autonome e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per SARS-CoV-2 dell'Istituto Superiore di Sanità.